Mi contavano la storia e dopo te la facciamo vedere, vedi qua, guarda, 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 la masca, e te adesso la vedi così che ridi perché è giorno, ma voi pensate di andare in una stalla a sentire la storia del maschio, uscire di notte curaia la pala a luna, ebbene, attraversare il cortile che ripavi come pochi, vedevi la maschera sul pugiel, c'era qualcuno che te la faccia vedere, e allora mamma, se io arrivo qua, hai visto l'Ukuleis, sapete l'Ukuleis? Il fuoco fatto, quello lì che si vede poi da novembre in avanti, e arrivavo a casa con la Pou, senza bianco ma la sera, perché la farina era grigia, la sera, e ora non si potevo dire bianco ma la farina, bianco ma la sera, e cosa è capitato perché camminavi tutto così, l'ebraio a piedi, dalla Pou, dalla Pou, succedevano, ecco, la palina magica, guarda, guarda, va giù, va giù, vedi, vedi che va giù, va giù, va giù, no, ha la fermata, guarda, guarda, ma mi si può, là non è possibile, e poi va giù, vedi che va giù, guarda, perché l'e lourda, l'e pesante, come dicono in Francia, guarda, 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 proprio così, va giù, va giù, va giù, va giù, no, ha due figli, questa è? Questa lì, ma mi si è pacchettata, signora mi dica un po', secondo lei cosa succede qua? Grazie.